Come si chiama questo Mario Gillo? La pignata. La pignata lucana? No, la pignata. La pignata. Mi ha detto la pigneta. E cos'ha come ingredienti? Allora, ci si mette ovviamente la carne di patro, i pecore ci sono, le campestre, le carote, il sedano, le patate, pezzettini di pecorino, pezzettini di salano e la ricetta. E' uguale. Merci beaucoup.